Devo dire che è stata un'esperienza positiva, appena da parecchi anni che prendiamo i vostri prodotti e siamo molto soddisfatti per la qualità e anche l'impiego e per la manutenzione, sono stato anche personalmente presso la vostra azienda pare tre anni fa, professionalità, cortesia e tutto quello che serve per una buona riuscita dei controlli e della nostra attività. Abbiamo ottenuto dei risultati molto importanti perché anche se siamo un paese piccolo, con sparso su frazioni, anche i comuni associati sono comuni di piccole dimensioni e il traffico comunque è importante, quindi su alcuni tratti riuscire a regolarlo meglio anche con i controlli sulla velocità, con l'autovelox sia fisso sia in modalità, sia mobile, i box hanno sicuramente ridotto la velocità sulle strade, hanno indotto molti automobilisti a rallentare, poi qualcuno che pesta a piedi sull'acceleratore c'è sempre, ma viene comunque unito, insomma i risultati sono stati molto importanti.